Andiamo con... c'è una dedica particolare, mi sono ricordato, però aiutami che mi sono ricordato che devo fare una dedica. Ecco il tuo amico che è qua, doveva essere qui con noi? Aveva prenotato, comunque ci sta seguendo, Marino, ci sta seguendo Marino, per Marino arriva Anna! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!